buongiorno a tutti ho il piacere e l'onore di aver accettato l'invito dall'amico alberto lonzelli essere qui a fare il moderatore occupo pochissimo tempo mi limito proprio ad introdurre l'enorme platea e importantissima platea dei soggetti che ora prenderanno la parola e quindi do subito la parola al senatore romeo massimiliano in rappresentanza della lega sì buongiorno a tutti intanto grazie al professor alberto donzelli un saluto alla fondazione lineare salute sanità che ringrazio per aver organizzato questo questo convegno questo incontro per parlare di cure precoce domiciliari e per fare in modo che diciamo così nel che oggi come oggi rispetto a quello che sta accadendo e quant'altro ci possa durante la pandemia essere almeno anche la possibilità di poter discutere di potersi confrontare perché è giusto di poter anche magari sollevare in alcuni casi qualche critica perché è giusto che la scienza dibatta ricordo uno dei più grandi pensatori della nostra storia cartesio che diceva che il dubbio è l'origine della conoscenza ma sulle cure precoce domiciliari mi soffermo molto perché l'8 aprile del 2021 poi ci sono collegati anche alcuni miei colleghi del senato di altri partiti abbiamo approvato era l'8 di aprile un ordine del giorno il senato all'unanimità col quale si chiedeva di superare l'attuale protocollo tachipirina e vigile attesa sul contrasto al covid ma di utilizzare quelli che erano alcune esperienze importanti che sono state messe in campo da alcuni medici nel cercare di il più possibile limitare le ospedalizzazioni diciamo che fino adesso non ci hanno mai dato più di tanto retta però nel frattempo c'è da dire che siamo contenti che sono usciti alcuni studi quindi noi non proponiamo nessun rimedio sciamanico o cose di questo genere nessun rimedio stravagante ma semplicemente rimedi e interventi che sono suffragati da evidenze di carattere scientifico bene contenti che lo studio di freddy suter e giuseppe remuzzi sia stato pubblicato anche su alcune riviste che fanno parte del magazine dell'anset e che abbiano messo in evidenza che un intervento precoce immediato nella prima fase della malattia possa portare dei rimedi efficaci possa evitare addirittura nel 90 per cento le ospedalizzazioni è stato addirittura ultimamente è stato pubblicato anche sul Corriere della Sera quindi finalmente essendo stato pubblicato sul Corriere della Sera qualcuno comincerà a pensare che effettivamente sia vero e che esista questo questo studio è uscito un libro pubblicato dallo stesso dottor Remuzzi e quindi insomma siamo contenti che finalmente si comincia a parlare anche di cure alla luce del fatto che le cure precoce domiciliari ci tengo a ribadirlo non sono alternative ai vaccini ma sono e possono essere complementari ai vaccini cioè quante armi abbiamo a disposizione per battere il covid i vaccini sono sicuramente l'arma più importante ma probabilmente non è l'unica ce ne sono altre bene usiamole tutte questo è il significato sostanzialmente no perché poi su questi temi bisogna sempre stare attenti perché poi subito pensano che chissà che cosa si stia pensando quant'altro no utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione quindi noi siamo sono molto onorato di essere qui di ascoltare di capire di comprendere anche perché lo stesso direttore dell'istituto superiore di sanità che lavora a stretto contatto col ministro speranza di recente ha detto che insomma con questo virus l'immunità di gregge è un po complicato raggiungerla e che riusciremo a sconfiggere definitivamente il virus solo quando riusciremo a trovare una cura in grado di bloccarlo all'inizio bene allora se la strada è quella nel frattempo i vaccini hanno fatto assolutamente tantissimo hanno fatto in modo di proteggere dalle forme gravi della malattia se oggi ci sono così bassi contagi è merito dei vaccini bene però in previsione anche futura dobbiamo cominciare a lavorare anche sul tema delle cure e proprio per questo prendere le esperienze che ci sono e lavorare in questa direzione quindi qualsiasi convegno qualsiasi incontro che mette in evidenza ripeto delle terapie che sono scientificamente provate ecco non certo chi viene a proporre delle cose come dicevo prima stravaganti e deve essere assolutamente considerato meritorio ed è importante che si discuta e si dibattia quindi grazie davvero tutti quanti sarò qui ad ascoltare e sarà mio interesse a prendere appunti su un tema su cui chiaramente riguarda la politica che per prendere delle decisioni deve anche conoscere e sapere grazie e buona giornata a tutti quindi posso la parola alla senatrice laura stabile rappresentante di forza italia grazie buongiorno a tutti e grazie per questa importante iniziativa noi già in agosto in senato insieme alla lega avevamo organizzato una conferenza stampa su questo tema e l'obiettivo era proprio quello di promuovere in vista dell'autunno di una probabile se possibile ripresa della pandemia più strategie parallele in modo dato che il governo sta puntando e puntava principalmente sulla campagna vaccinale quello che mi ha colpito molto sul tema delle cure domiciliari sono stati gli attacchi mediatici anche mediatici che sono stati fatti anche piuttosto violenti ai medici e agli studiosi che praticano o propongono cure domiciliari precoci con accuse che sono assolutamente illogici inaccettabili e che rischiano di screditare il lavoro di queste persone e di questi scienziati spesso qui si parla di cure domiciliari precoci che sono un'alternativa alla vigile attesa voluta dal ministero che molte volte è significato in pratica l'abbandono del paziente a se stesso ovviamente abbiamo capito che qui nessuno pretende guarigioni miracolose si parla solo di diverse terapie possibili la cui efficacia è dimostrata o almeno ritenuta molto probabile da studi scientifici e delle quali è provata la sicurezza io vorrei ricordarvi qualche esempio di qualche accusa appunto illogica inaccettabile che è stata fatta per esempio l'accusa di voler curare qualsiasi forma di covid e di negare l'ospedalizzazione ai pazienti come stregoni utilizzando e pretendendo di debellare il virus con integrazioni alla dieta con vitamine e cose di questo tipo come sentiremo ovviamente nessuno pretende di azzerare gli effetti del virus con questi interventi però ci sono interventi di efficacia provata o molto probabile che possono migliorare il decorso e gli esiti della malattia c'è stata una ridicolizzazione c'è stata l'accusa di voler curare le persone come cavalli con terapie veterinarie questo è stato il caso dell'ivermectina che è un farmaco invece che si è anche un utilizzo veterinario però è un farmaco per uso umano importante sicuro e ampiamente diffuso del mondo per la cura di di altre patologie da parassiti allora eh questo farmaco che è promettente anche nei confronti della covid non è dell'oms non è stato ritenuto ancora eh da raccomandare perché secondo l'oms le evidenze scientifiche non sono ancora sufficienti però l'oms lo ammette nell'ambito di sperimentazione clinica che speriamo che producono ulteriori dati certo l'oms non è pensabile che l'oms non possiamo credere che l'oms eh proponga per le persone ammetta per le persone anche se vi è sperimentale terapie da cavallo tutto questo eh mi serve per lanciare un appello abbassiamo i toni spegniamo queste polemiche ritroviamo serenità e riportiamo questi argomenti nel loro ambito naturale che deve essere quello di un dibattito scientifico che sia ampio che sia trasparente e che sia ovviamente sempre basato sull'evidenza scientifica e sulle prove che man mano la scienza ci produce la scienza non è dogmatica mentre invece spesso la comunicazione che abbiamo sentito sia da parte del ministero della salute che dei suoi organismi ci ha presentato argomenti come certezze granitiche e eh spesso chi invece su basi scientifiche poneva altri eh poteva dubbi o proposte è stato censurato oppure descritto come antiscientifico mentre invece il lavoro questo tipo di lavoro e il lavoro di queste persone va a benessere dell'intera collettività ancora grazie resterò a seguire la conferenza con molto interesse buon lavoro quindi ora ho il piacere di ridare la parola a un altro parlamentare ricambiamo camera al senatore lucio malanna rappresentanza di forza italia grazie grazie scusate fratelli d'italia ho sbagliato chiedovenia 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 ringrazio il moderatore ringrazio il professor donzelli che mi ha che mi ha invitato eh è bello ascoltare colleghi di diversi gruppi e trovarsi d'accordo si vede che ci sono delle delle buone ragioni del un terreno comune eh prendo lo spunto dal nome dell'associazione di cui che è guidata da Alberto Donzelli a lineare sanità e salute per dire sembrano due cose scontate lineare sanità e salute così come sembrerebbe scontato a lineare verità e comunicazione e infatti sarebbe normale ma su questa pandemia ci sono stati dei problemi sicuramente nel secondo caso nella lineare verità e comunicazione e probabilmente anche nel primo visto che si sente la necessità di ribadirlo l'approccio deve essere quello che come ha detto appena adesso il moderatore deve essere quello razionale quello quello scientifico è stato detto anche anche da altri l'ho detto Laura Stabile e cioè avere un approccio eh avere un approccio razionale eh tutti coloro che parlano di terapie domiciliari e appunto ho partecipato eh al al voto dell'otto aprile scorso ringrazio Massimiliano Romeo per averlo per aver ricordato questo fatto importante eh sono stati variamente marchiati di essere novax no come se visto che c'è un vaccino si deve dimenticare si devono dimenticare le cure cosa che non bisogna fare mai lo si fa su tutte le malattie nessuno ha dimenticato le le cure per le malattie che pure per le quali pure ci sono vaccini a maggior ragione bisogna farlo in questo caso perché abbiamo visto in modo chiarissimo anche se qualcuno ancora cerca di negarlo ma è ammesso da tutti gli istituti di sanità cerco appunto con l'eccezione di qualche virostar qualche televirologo eh che il vaccino non dà copertura completa pertanto bisogna avere un approccio appunto razionale e bisogna bisogna studiare queste queste cure come un approccio anche lì razionale non si può dire sì a qualunque cosa ma non si possono neanche marchiare le cure come abbiamo eh sentito fare ed è stato ed è stato ricordato ed è stato ricordato adesso appunto il fatto di sostenere la la campagna vaccinale non vuol dire essere contro le le cure domiciliari ma soprattutto essere per le cure domiciliari non vuol dire contrastare altri tipi altri tipi di approccio per cui ringrazio per avere chi organizza questa e chi eh ci esporrà eh le 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 per i propri studi in questa mattinata perché è molto importante seguire tutto e avere appunto un approccio razionale e veramente scientifico alla tematica che è molto importante grazie quindi ho il piacere di dare la parola al dottor Alberto Donzelli che è stato dirigente medico di sanità pubblica e coordina e adesso è coordinatore scientifico della fondazione allineare sanità e salute grazie grazie non c'eravamo messi d'accordo ma io effettivamente esordisco sempre con una dichiarazione di questo genere eh sono stato direttore del servizio educazione all'appropriatezza e medicina basata sulle prove della ex ASL di Milano sono stato anche membro per un triennio del consiglio superiore di sanità sono pensionato da cinque anni lavoro a titolo gratuito eh pago l'affitto in una sede sanitaria pubblica non ho conflitti di interesse da dichiarare sono membro della fondazione allineare sanità e salute che si regge sul lavoro volontario e gratuito non solo del consiglio direttivo ma anche del comitato scientifico e degli autori delle pubblicazioni e che non presenta conflitto ma l'ambizione di presentare allineamento con gli interessi del servizio sanitario nazionale e della salute della comunità dei cittadini eh qualcuno mi chiede se sente più volte eh mi sente più volte parlare perché anche allo stesso uditorio la ripropongo sempre ecco io penso eh sono d'accordo con il eh presidente Sanvenero che eh chi parla un pubblico dovrebbe sempre fare altrettanto invitando anche a fare verifiche sulla veridicità di questa dichiarazione allora eh dal Emilia Romagna sono state pubblicate recentissimamente le ho prese queste slide dal eh quotidiano sanità delle videopillole con domande risposte e quella sulle terapie specifiche dice non esiste una terapia ad oggi riconosciuta con evidenza specifica di efficacia contro il covid eh è vero che non esiste una terapia di evidenza specifica ma bisognerebbe dire che qualcosa con eh delle prove eh meno specifiche ma comunque valide esiste esiste un monitoraggio continuo dell'uso dei farmaci e che trascrizione letterale perché sono proprio brevi queste videopillole eh alcuni farmaci sono in corso di approvazione per uso legato a condizioni particolari penso evidentemente agli anticorpi monoclonali che sono destinati a gruppi a particolare rischio sempre sotto controllo medico e poi dice la vaccinazione è l'unico presidio eh specifico contro la coli allora non è che eh mettersi il camice che è il camice avere il logo della regione automaticamente consente di essere credibili se si dà un messaggio che non dà in realtà sostanza a quello che viene comunicato la gente resta come prima cioè eh se poi si ammala resta nell'ansia e eh se se non nell'angoscia eh allora eh in questa presentazione parleremo di prodotti o principi attivi che ampliano il ventaglio delle cure disponibili che vanno anche bene per le fasi avanzate quello che dice l'AIFA io lo sottoscrivo ecco per eh però eh anche a domicilio sempre di intesa con il curante ci dovrebbero essere delle opportunità che in effetti noi andiamo a esplorare eh scegliendo quello che vi presenterò con questi criteri di massima devono essere delle dei principi attivi di efficacia molto promettente in base a studi randomizzati controllati che sono il goal standard per la valutazione della efficacia in eh medicina eh che devono essere favorevoli e di discreta sufficiente validità e questo è un must per quello che vi presenterò eh c'è un'eccezione per ivermettina che però ha trenta studi randomizzati eh venticinque sono a favore e cinque a sfavore per cui complessivamente il peso dell'evidenza va in una direzione eh integrati da studi osservazionali di rango inferiore ma coerenti con i trial randomizzati anche dove le prove non siano definitive curanti assistiti informati possono prenderli in considerazione e io quindi non do non sto a dire dovete fare questo ci mancherebbe altro la scelta spetta al curante insieme al diretto interessato evidentemente eh però eh il messaggio è in letteratura si trova questo ed è giusto che venne di informazione eh se non sono prove definitive eh devono esserci insieme delle altre condizioni che siano sostanze sicure primo nonno c'era è un must ippocratico biologicamente plausibile la loro azione siano principi attivi economici anche per la società avere un costo opportunità favorevole è una buona cosa per tutti accessibili o che possano diventarlo rapidamente e senza mega sponsor commerciali né ricercatori con grandi coi sono i conflitti di interessi ecco le strategie anti covid che riteniamo importanti ci sono sul volantino constano di cinque caposaldi che non vi sto a elencare naturalmente includono le vaccinazioni con posizione centrale ma non si limitano a queste una delle altre quattro strategie è promuovere delle terapie appropriate che si mostrino basate su prove sicure e sostenibili è un punto chiave proprio perché toglie la paura che ha fatto pensare troppo spesso che l'ammalarsi di covid sia quasi una condanna a morte i principi attivi o prodotti che sono identificati senza nessuna pretesa di esaurire il ventaglio di queste opportunità che in effetti si stanno ampliando sono ivermectina che non è un prodotto miracoloso assolutamente però ha una sua utilità insieme ad altro ed è sicura assolutamente sicura le corrette le dosi previste e lo vedremo per uso umano in gran parte del mondo e poi ci sono anche budenonide inalatorio io dopo vidone ne parleremo non si sa ma è molto interessante fluvoxamina che è un antidepressivo generico equivalente indometacina che è un antinfiammatorio generico equivalente curcumina più piperina a nove studi randomizzati controllati non è una fantasia paesi a basso reddito hanno investito anche in queste ricerche hanno anche degli studi in doppio cieco che la promuovono nigella sativa quercettina melatonina e iota caragenano e caragenano allora benvengano ovviamente tutte le altre cose di provata efficacia se adesso saranno approvati anticorpi monoclonali benissimo eh l'unica eccezione che farò è citare alla fine tra qualcosa che non ha un trial randomizzato ancora eh che eh sposi questa sostanza è una gliptina forse tutte le gliptine il sitagliptine è stato eh visto in studi osservazionali in uno a partecipato il dottor Solerte il dottor Galli anche il professor Galli e eh lo cito per il motivo che capirete non ripeterò quello che ha già detto opportunamente il eh capogruppo senatore Romeo eh sugli studi del Mario Negri perché non li ho citati qua io attendo eh come ho detto dai criteri e il trial randomizzato dopodiché prendo in considerazione quello che con il secondo studio osservazionale che ci hanno proposto adesso diventa sicuramente più eh interessante eh cioè degli altri antinfiammatori oltre a indometagina eh i criteri di massimo usati eh ripeto eh prove di efficacia plausibilità biologica economicità accessibilità almeno potenziale se lo si vuole assoluta sicurezza e non avere mega sponsor commerciali né forti eh conflitti di interessi dei primi ricercatori perché questo abbatte la credibilità c'è un criterio che oltre a quello metodologico andrebbe sempre incorporato nella valutazione delle eh della letteratura purtroppo ci si dimentica invece questo c'è l'asse della perfezione metodologica c'è l'asse della credibilità dello studio questa è niente di meno che per due decenni direttrice di eh del New England Journal of Medicine vi traduco quello che ha scritto su un suo celebre libro eh al termine della sua esperienza semplicemente non è più possibile credere è Marsha Angel a gran parte della ricerca clinica pubblicata o fare affidamento sul giudizio di medici rispettati o linee guida medica autorevoli pubblicate con i mega sponsor commerciali non mi fa piacere questa conclusione che ho raggiunto lentamente con riluttanza nei due decenni come direttore del New England ma perché ricerche con sponsor commerciali e ricercatori con conflitti di interesse con questi sponsor hanno meno credibilità e allora vi ricordo tra i tanti eh le tante distorsioni le quattro fonti maggiori che purtroppo molti lavori che vengono celebrati presentano anche tutte e quattro insieme il fatto di avere sponsor commerciali è una distorsione eh sistematica nel senso che chi l'ha valutata come la Cochrane Collaboration nel 2012 e poi nel 2016 eh ha riconfermato che c'è una eh una media più favorevole al prodotto dello sponsor quando sulla stessa molecola si siano confrontati l'insieme degli studi sponsorizzati e l'insieme degli studi invece senza eh sponsor eh privati commerciali relazioni finanziarie dei ricercatori principali eh uno ratio che addirittura superiore a tre tra tre e quattro di distorsione a favore del prodotto dello sponsor indipendente dallo sponsorship bias di cui abbiamo parlato prima quindi sono due distorsioni che probabilmente si sommano eh e studi che siano troncati trial troncati precocemente eh per benefici rispetto al protocollo predefinito che prevedeva magari cinque anni o due anni di follow up si troncano per grandi benefici dopo un anno dopo qualche mese e questo imprime eh una esagerazione del 12 per cento del 35 per cento e anche del 60 per cento in relazione al numero di eventi che si sono nel frattempo nei eh mesi e negli anni accumulati gli eventi obiettivo e eh un poco chiaro o inadeguato mascheramento di lista di randomizzazione è doppio cieco anche questo è una distorsione anche se una eh più recente televisione ha molto attenuato il peso di questo effetto rispetto ad altri e vi dico che comunque questo può interessare anche alcuni dei piccoli studi una parte dei piccoli studi che eh promuovono delle sostanze diverse da quelle dove si sta muovendo il mainstream per chi fosse interessato ad avere ecco eh nella eh newsletter Deino Grazie qui c'è il riferimento io vado in fretta perché ho veramente tante cose da concentrare in questa comunicazione però avrete occasione visto che sarà tutto pubblicato e potervela rivedere studiare perché ci sono cose che vanno assimilate con un po' più di metabolizzazione in questa newsletter sui grandi eh fattori di distorsione degli studi ho spiegato di più allora eh questa è la eh metanalisi che viene pubblicata sul British Medical Journal eh a eh sui Vermectina partiamo da qua perché quella che ha più studi eh cita eh sette trial notare che al momento ce ne sono trenta ne cita sette e con un totale di settecentocinquantun partecipanti al momento sono otto nove volte tanto i partecipanti e classifica very uncertain molto incerto il risultato anche se la mortalità con cure standard confrontate è stata di centotrenta in questi trial e con i Vermectina eh centotre in meno se poi era accoppiata a eh doxiciclina che è un antibiotico che può essere utile in queste circostanze centotrenti in meno cioè zero morti ecco però l'OMS che eh dà questo tipo di informazione eh non dà molto peso a queste prove perché gli sembrano troppo poche e eh e questo è il SMA NUC che è il cosiddetto corresponding author di eh questa revisione e eh io mi sono permesso di eh chiedergli eh ripetutamente che succede? Scusate eh Vi dico che intanto avevo chiesto a questo eh corresponding author di eh eh rispondermi sul perché citasse solo eh eh quei pochi studi e non ne considerasse altri ho eh considerato anche questa metanalisi più dying che living eh e SMA NUC eh nonostante queste tre email che gli ho destinato non ha mai risposto per cui io lo considero un not responding author visto che eh non è eh uno che risponde alle sollecitazioni di tipo scientifico eh questo è eh quello che viene tuttora pubblicato sul BMJ che di solito ha ampia apertura rispetto a discorsi anche un po' fuori dal coro e eh questo è uno dei metanalisti che invece ha lavorato su Ivermectina e dice ma perché questa ostilità così eh sistematica nei confronti di Ivermectina con questo tiro al piccione che è diventato estremamente intenso negli ultimi mesi ecco questa è la situazione nel mondo è vero eh salvo alcune eccezioni che sono citate sotto i paesi occidentali eh non eh la utilizzano ma è ampiamente utilizzata nel mondo il 36% dei casi di covid ne eh usa nella terapia e il 28% della popolazione del mondo la utilizza Ivermectina è un farmaco antielmintico antiparassitario ad ampio spettro è usata anche contro i pidocchi per questo è autorizzata anche nel nostro eh prontuario eh del servizio sanitario nazionale e contro la scabbia e contro delle parassitosi che eh interessano dei paesi eh a clima diverso dal nostro però un po' anche eh da noi e eh è stata scoperta nel 75 gli scopritori hanno il Nobel per la medicina e eh nella lista dei farmaci essenziali dell'organizzazione mondiale della sanità che per definizione introduce medicinali sicuri ed efficaci è molto economica eh in Bangladesh è un euro al giorno il trattamento e in genere sono tre giorni e eh nel eh eh che so eh in Israele sono 10 euro al giorno quindi è estremamente economica eh rispetto a prodotti del produttore di Ivermectina che merce al pendon che adesso promuove molnupiravir eh che costi negli Stati Uniti 700 euro per trattamento ha dimezzato la mortalità nel trial in cui è stato sperimentato però eh diciamo che in termini di costo opportunità è certamente diverso e che forse spiega perché Merck pur producendo Ivermectina tuttora non si sbraccia a difesa di Ivermectina ma punta a business più profittevoli legittimamente dal suo punto di vista ma la sanità pubblica queste cose le deve dire eh allora questo è una metanalisi real time questa qui sì perché vedete che ottobre 21 la giornata due giorni fa ma se voi cercate oggi c'è il 23 ecco quindi questa è veramente una living eh mostra eh la trovate su questo eh link eh mostra dei benefici che eh è vero nel lay treatment treatment eh è un beneficio negativo eh cioè un 20% come stima puntuale ma un meno 6 come intervallo di confidenza più basso quindi non raggiunge la significatività statistica si è presa tardi però si è presa presto ed ha dei benefici complessivi importanti questi sono i trial è vero a 5 trial a sfavore ma ne ha 25 a favore quindi va pesata il peso delle prove nel loro insieme eh questo è eh per il trattamento precoce sulla mortalità allora dato che muoiono pochi nel trattamento precoce il beneficio è piccolo ma anche perché gli eventi sono pochi eh su altri eventi invece è più interessante il beneficio e sulle treatment un 49 per cento di riduzione di mortalità queste sono le metanalisi sui risultati di mortalità dell'ivermectina e vedete che sono tutte a favore compresa quella dell'oms che addirittura 0 19 vuol dire 81 per cento di beneficio in termini di riduzione della mortalità però dice che le prove sono insufficienti il meta è questa metanalisi che vi sto mostrando che è molto aggiornata quindi ha incorporato anche il fatto che un grosso trial sia stato ritirato ed ha effettivamente un beneficio leggermente inferiore alle altre del 56 per cento eh ci sono questi sono con risultati statisticamente significativi ce ne sono anche altre che non danno risultati statisticamente significativi eh la metanalisi recente della Cochrane e eh la metanalisi di Roman quella di Roman eh non la voglio molto considerare è stata molto contestata anche per dei dati eh non corretti che sono stati riportati se si è chiesto di cambiare non credo che l'abbia fatto comunque quello che è interessante notare è che anche queste che non trovano una significatività statistica ma come stime puntuali sono uguali alle altre è chiaro che se invece di considerare eh 30 trial ne considerano il caso della mortalità solo due come fa mi pare la Cochrane e la potenza per arrivare a una significatività è molto minore però i benefici sono il 40 per cento nei ricoverati il 67 per cento negli ambulatoriali e buttali via eh c'è poi Hill adesso avrà molto eh molta risonanza il fatto che ha eh ritirato una metanalisi Andrew Hill e eh di Liverpool e eh perché c'era il trial del Gazzar e lui ne ha tolto anche un altro che è quello di Niae che eh reagisce dice che non era il caso di levarlo perché eh dice abbiamo avuto una corrispondenza e mi ha risposto togliendo questi due trial eh il Gazzar l'hanno tolto tutti perché è stato ritirato dalla rivista Niae la rivista lo tiene ma lui l'ha tolto e dice la mortalità non è più significativa ok non è più significativa però la tendenza è molto a favore e poi perché butti via il bambino con l'acqua sporca se c'è qualcosa all'interno di un trial che non ti convince fai correggere quello e vediamo cosa salta fuori invece di buttar via tutto tant'è eh allora questo è per la Cochrane allora la Cochrane non è più la Cochrane di una volta secondo molti di noi eh a partire dal fatto che dichiarano di non avere conflitti di interesse ma eh Maybaum eh ha ricevuto nel 2020 grants da Pfizer forse pensava non avere conflitti di interesse con l'Ivermectina che non è possibile averne perché costa talmente poco invece con i competitor di Ivermectina forse è più facile avere dei conflitti di interesse anche Crank ha dei conflitti meno datati con GSK non li dichiara eh eh cioè più datati non li dichiara e questo già è un motivo per far scricchiolare un po' la mia confidenza in questo la posizione della rete sostenibilità e salute quando c'è stata la grandissima frattura con Goethe che è stato espulso con una specie di congiura di palazzo Peter Goethe è uno dei fondatori della eh Cochrane collaboration adesso non si chiama più collaboration si chiama solo Cochrane eh e eh lui è stato espulso impedendogli di partecipare a un consiglio dove era il il più votato dei membri eletti e eh ha dovuto fondare all'esterno eh l'Institute for Scientific Freedom non ve la faccio lunga ma eh c'è stata una spaccatura verticale del consiglio in questa tumultuosa seduta che è stato un po' un un agguato eh e eh questa è la posizione che poi vi andate a leggere che ha assunto la rete sostenibilità e salute con su 20 associazioni partecipanti che ha detto eh si riammette Goethe o noi perdiamo molta della fiducia che avevamo nella Cochrane eh oltretutto la Cochrane adesso questo è un posto di Goethe che dice caspita adesso anche il Regno Unito toglie da 2023 i finanziamenti alla Cochrane e questo fa pensare che sia l'inizio della fine perché se non c'è anche una forte componente di finanziamento pubblico questi si butteranno nelle mani dei privati per avere finanziamento e la fiducia in quel che fanno cadrà ulteriormente eh io ogni giorno se taccio la letteratura ad ampio raggio questo è quello che continuano a riproporre già ma con una ossessione ogni giorno più volte su più riviste ripropone questo eh trial eh di eh Lopez Medina che oltretutto è a favore di Vermectin non in maniera significativa ma a favore e e ripropone questo come se fosse l'unica cosa che c'è perché viene considerato eh uno che ha eh alla fine bocciato i Vermectin a peccato chi vuole vedere le motivazioni ma non vi soffermo le trova nella slide successiva le motivazioni critiche che io condivido ci sono due pesi due misure rispetto a Vermectin a con altri farmaci approvati Budesonide che sicuramente è utile un eh un innovatorio costa anche poco eh è stato però approvato eh sulla base di un numero di pazienti relativamente piccolo eh come pure il Rendesevir che è stato approvato sia pure in particolari condizioni eh e degli anticorpi monoclonali sotto ma i Vermectina che ha tantissimi pazienti in più sta ancora aspettando di avere prove sufficienti eh l'esempio comunque parziale di parziale successo di Budesonide inalatorio lo prendo solo per mostrare che è un farmaco di sicuro interesse non da utilizzare subito ma come è stato nel trial principle che è quello che vi sto analizzando ha dato beneficio a quelli che si che lo prendevano prima di sette giorni dall'inizio della covid si avevano un forte stato infiammatorio ed erano anziani insieme queste due condizioni eh e eh quelli che non avevano lo stato infiammatorio che era partito prima con delle manifestazioni eclatanti avevano beneficio solo se lo prendevano dai sette giorni in avanti quindi gli antinfiammatori potenti presi subito rischiano di eh bloccare un meccanismo che nei primi giorni della fase viremica è di eh è di difesa ecco però era giusto per farvi vedere questo è un mega trial principle però non ha trovato una differenza significativa ma non per questo ha rimesso in discussione Budesonide c'è una tendenza 0,75 vuol dire eh il eh 25 per cento di beneficio eh per eh le ammissioni ospedaliere 1,03 vuol dire che la differenza non è significativa l'intervallo superiore va oltre l'unità però eh tutti lo usano ed è giusto eh considerarlo ecco è un risultato interessante eh e eh ecco questo è eh uno uno studio italiano sui vermettina che eh adesso pubblicato credo in preprinte o forse già liberato eh e eh ha confrontato quella che è la cosa interessante e che voleva dimostrare innanzitutto la sicurezza né e ha eh confrontato dosi sei volte le massime considerate per uso antiparassitario e ha trovato che è sostanzialmente sicura quindi questa è la cosa che ha portato questo studio italiano poi la tendenza al beneficio che non è stata così eclatante però andava nella direzione giusta sulla viremia eh è pure eh rimarchevole però la cosa più importante è che tutte quelle affermazioni pittoresche date ai cavalli non agli esseri umani eh fanno ridere eh eh alla luce anche di questo studio italiano che mostra che dosi sei volte maggiori restano sicure e non è stato interrotto per futilità questo è uno studio israeliano in doppio cieco molto interessante eh pubblicato più o meno in contemporanea che ha visto che anche con le dosi non elevate le dosi di 0,2 milligrammi per chilo quelle di uso antiparassitario riduce significativamente la viremia e riesce a ridurre la necessità di isolamento in maniera marcata rispetto a un placebo che però gli altri come tutti venivano trattati sempre al meglio delle conoscenze non è che quando si dice a placebo gli si dà acqua freca e si sta a vedere se si aggrava si dà il meglio e ci si aggiunge da una parte eh ivermectina ecco questa è eh eh quindi dimostra che non sono indispensabili alte dosi adesso ci sarà il battaggio perché è uscito together e together il principal investigator che è questo Edward Nils dice no effects whatsoever per niente nessun effetto ma crede che sia finita così andiamo a guardarci dentro invece di limitarci al titolo alle dichiarazioni o all'abstract perché i ricercatori devono leggere quello che c'è nei dati allora i dati la mortalità è 0,82 non raggiunge è vero la significatività statistica perché gli eventi non erano così tanti però eh eh averne avuti eh eh meno e anche per quanto riguarda la terapia intensiva ne hanno avuti meno non arriva la significatività statistica ma un 18 per cento in meno anche se non significativo di morti lo buttiamo via eh e poi eh c'è da fidarsi quanto di eh un principal investigator come Mills non lo so eh vediamo chi è eh questo è un suo precedente eh trial dove dichiara le sue relazioni finanziarie lo studio è sponsorizzato da Pfizer lui ha eh è stato consulente con Merck con Pfizer con Novartis Nicomet Johnson & Johnson Glaxo eh e eh ha eh eh possiede la eh Mac Reviews Inc che è finanziata da Pfizer eh allora eh e quindi Edward Mills eh è il presidente della Mac Reviews Inc e eh è stato un pagato consulente di Pfizer allora quando gli hanno chiesto se in Together eh il fatto che fosse oltretutto finanziato da Bill Gates questo Together eh 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 avesse influenzato le sue decisioni lui ha detto eh no assolutamente eh cioè però è un po' come chiedere all'oste è buono il suo vino ottimo ottimo insomma cioè quando ci sono questi conflitti di interesse bisogna anche avere un po' di critica alla credibilità questo è eh una meta-analisi che non viene citata in eh il meta di Santin che cita all'interno questo studio eh pubblicato su una rivista con ImpaFactor in Peru che è molto gravato da eh ha pagato un prezzo molto alto alla Covid e vedete che quando hanno usato ivermettina eh in coincidenza cioè questa non è una prova ma un'associazione interessante è crollata di quattordici volte la mortalità poi l'hanno interrotta perché c'è una pressione internazionale per dire piantatela lì è roba da cavalli la mortalità come come non è risalita di tredici volte però diciamo non è una prova ma fa un po' pensare no? E la stessa cosa eh pare sia successa in India in Uttar Pradesh l'OMS riferisce che c'è stato un grande successo in questo Stato indiano che ha 241 milioni di abitanti quindi sono i due terzi della popolazione degli Stati Uniti anzi forse di più due terzi almeno e eh 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 ammette che eh c'è stato questo programma aggressivo utile grazie a un kit ma cosa ci sarà in questo kit cosa ci sarà in questo kit oltre ai test c'era dentro proprio anche l'ivermettina eh per cui eh di nuovo uno magari ci pensa e dice eh infatti il governo dell'Uttar Pradesh afferma l'uso profilatico terapeutico su larga scala dell'ivermettina ha fatto ci ha aiutato a mantenere un tasso di mortalità e positività più basso rispetto ad altri stati che invece l'hanno eh negata come il Kerala. Andiamo avanti allora questa è la nostra gazzetta ufficiale quindi l'AIFA il primo passo l'ha fatto e ha ammesso nel prontuario eh Iverscab che è un farmaco francese adesso devono negoziare il prezzo che stagna lì un po' da da mesi perché qui è il 10 di maggio che è stata pubblicata la negoziazione del prezzo consentirebbe finalmente a questa ditta francese di far arrivare sul mercato Iverscab lo eh legittima per la scabbia però c'è anche una legge che dice che il medico che è convinto può fare la prescrizione off label purché dica al paziente che deve essere consenziente firmi il consenso informato e se lo compra lui invece di metterlo a carico del servizio sanitario nazionale. Molti medici sarebbero contenti di farlo tanto è stato dimostrato che è sicuro e eh eh per eh per quanto eh poco eh o tanto male eh non fa e eh può far bene. Quindi eh ci interesserebbe sbloccare questa situazione e passiamo a un'altra sostanza allo iodopovidone che è conosciuto anche sotto il nome di betadine. Questo è uno studio di estremo interesse giudicato di buona qualità anche da chi usa il metodo Cochrane di valutazione su 606 pazienti hanno fatto ecco vedete che sono tanti peraltro gli studi sull'iodopovidone. Io vi faccio vedere quello di Cioduri eh perché è quello con il maggior numero di pazienti 606 in totale 303 contro 303 li curavano allo standard e in un gruppo si dava acqua tiepida metterci la goccia ogni quattro ore negli occhi e nell'altro gruppo iodopovidone diluito all'uno per cento cioè quindi oggi se si trova il betadine al 10 per cento sempre d'accordo col medico se lui è d'accordo considerando questa letteratura si convince è una cosa interessante da usare soprattutto nelle prime fasi. Facevano anche un piccolo spray nasale gargarizzavano e sputavano perché potrebbe esserci un problema per chi soffre di tiroide per lo iodio se lo deglutisce però attenzione lì l'hanno usato per un mese per quattro settimane e non hanno avuto problemi di tiroide. Alla luce delle cose che si sanno adesso probabilmente dieci giorni bastano perché dopo dieci giorni la viremia nella stragrande maggioranza delle persone non c'è assolutamente più. Quindi è una cosa interessante ci sono sette studi sul iodopovidone con un miglioramento dell'81 per cento ma se andiamo a guardare quello più grande sulla mortalità dell'88 per cento e diciamo butta la via cioè di fronte a una malattia che fa tanta paura e un 45 per cento come pre-exposition cioè se uno ha un contatto a rischio se li metta due gocce negli occhi cioè può abbattere di non tanto però quasi di metà il rischio che sviluppi l'infezione. Questo qua è lo studio principale che vi ho mostrato prima e vedete che ve la faccio breve ma non hanno avuto quasi bisogno di supporto d'ossigeno, si erano negativizzati in settima giornata quasi tutti, hanno avuto una mortalità, qui si parla di Bangladesh, una mortalità dello 0,7 per cento contro il 6 per cento nel gruppo di controllo. Questo è indometacina, è uno studio indiano, è un trial randomizzato, indometacina è il primo che a mia conoscenza di antinfiammatori che ha anche il trial randomizzato, mi sarò lieto quando anche Remuzzi farà il trial di prendere atto dei risultati con anche altri. Adesso indometacina è accreditato di un'attività anche antivirale, è stato confrontato con il paracetamolo nel gruppo di controllo e più la terapia standard in entrambi e che cosa è successo? con 75-150 mg di indometacina, molto più rapidamente sono diventati a febbrili, hanno avuto un numero di giorni di riduzione di tosse nettamente inferiore, hanno avuto molta meno mialgia, questo è più importante, non hanno avuto desaturazioni di ossigeno, mentre 20 dei 108 che prendevano paracetamolo hanno avuto bisogno della terapia di supporto con ossigeno, questa è la sintesi dei risultati, quindi ben venga, oltretutto io dico che i danni di paracetamolo, che oggi non ne parliamo, ma la prossima puntata la dedichiamo al paracetamolo e ai farmaci che è meglio non utilizzare, potrebbero aver spiegato il grosso beneficio che si vede a favore di indometacina. fluvoxamine è un antidepressivo generico, costa ormai niente, neanche lui, ed è in trial che si sono succeduti, mostra degli effetti interessanti, ecco c'è, vi faccio vedere, questo è Paul Sachs che è il responsabile del Journal Watch per il New England sulle malattie infettive e dice che aspita, prima efficace economico, ampiamente disponibile, trattamento per la Covid, è stato testato nel trial Together, è stato testato, ecco attenzione, Together ha fatto una parte di studio con l'opinavir, ritonavir che sono andati male, hanno fatto in tendenza a aumentare il ricovero di mortalità, idrossiclorochina che invece è andata bene, o almeno è andata nella direzione desiderata, 0,76 vuol dire un 24% in meno di ricovero di mortalità, però la significatività statistica non c'era, gioca anche il fatto che hanno calcolato male il numero di eventi e ha messo pochi pazienti, perché mentre per fluvoxamine ne ha messi 750 per braccio, di qua ce n'erano solo 200 rotti e quindi la potenza era insufficiente per dare un risultato un po' più convincente, comunque non è stato convincente e di nuovo hanno fatto definitivamente fuori idrossiclorochina anche nella finestra stretta all'inizio quando forse un ruolo lo potrebbe ancora giocare, invece per quanto riguarda fluvoxamina la significatività ho detto su 739 pazienti e contro 733 c'è stata una significatività, se 0,71% non è così diverso dal 0,74 però è significativo e quindi la fluvoxamina, io sono assolutamente d'accordo, che vada bene come trattamento precoce. La curcumina, allora prima che qualcuno rida dicendo ma queste sono delle indianerie, no la curcumina ha 9 trai randomizzati perché si sono moltiplicati dopo i primi a favore, tutti a favore, adesso vi faccio vedere e questo è il golden milk, quello che vedete in basso, la polvere o la sostanza intera, è attiva contro una serie di virus veramente notevole, questi sono i trial, sono 9 studi di cui 8 trial randomizzati controllati, sono tutti a favore come vedete, 4 riportano anche l'esito di mortalità, un miglioramento dell'84%, buttalo via e sono risultati che hanno ottenuto sia in fase precoce ma anche in fase avanzata, sia pure meno eclatanti però anche in quelli ricoverati, quindi è molto interessante, un 60% di miglioramento. Questo è il modo con cui andrebbe utilizzata, se uno non compra, io non sono tanto favorevole agli integratori che magari hanno anche una concentrazione molto elevata, dato che un grammo che gli è stato dato di curcumina, che il principio attivo sta in 10 grammi di curcuma, di polvere, allora si può anche utilizzare una combinazione casalinga purché si mettano insieme, nello studio usavano piperine insieme nella stessa compressa, un pochino di pepe perché aumenta molto l'assorbimento pepe nero e qui non ve la sto a far lunga, lo vedrete nelle slide ma ha fatto bene su tutta la linea e negli esiti secondari di nuovo anche sulla mortalità, in questo e in altri studi. La curcuma può dare epatite della stasi biliare, allora il ministero ha fatto una, dopo che ci sono stati dei casi di epatite e colostatica, ha fatto una commissione apposita, ha concluso che gli integratori potrebbero, soprattutto in chi ha delle patologie biliari, per la curcuma in polvere ad uso alimentare no, ecco quindi non c'è nessun tipo di raccomandazione precisa pur continuando il monitoraggio ma il ministero non ha ritenuto di dover mettere alcune messe in guardia. La nigella sativa, cos'è la nigella sativa? Non ve l'ho detto prima per evitare magari un po' di sottovalutazione, è il cumino nero, ma in quali paesi si usa il cumino nero? Gli Stati Uniti usano, magari sì, ma non nei trial, i trial li fanno nei paesi poveri che si devono un po' arrangiare, li fanno in Iran, li fanno in Turchia, li fanno poveri o comunque emergenti ma non così pieni di risorse e sono stati dei trial molto interessanti a favore come vedete, per cui anche il cumino nero anche in olio piuttosto che in 3 grammi al giorno da aggiungere alle pietanze può essere una buona idea anche perché quel prep significa pre-exposition, cioè se uno sa che è andato con un contatto a rischio, quel giorno lì i 3 grammi di cumino nero sparsi dove gli piace potrebbe essere una buona idea di prenderseli. Guardate un po' il trattamento precoce dei miglioramenti importanti, questo qui, in questo studio invece hanno avuto solo, non hanno avuto morti ma hanno avuto i ricoveri, vedete la differenza in tempi di guarigione per i ricoverati tra chi la pigliava e chi non la pigliava, on top di altre terapie. La quercetina, di nuovo prima di ridere, ci sono degli studi interessanti, non ve l'ho messo perché è ancora in attesa di pubblicazione ma è stato accettato uno studio su Nature fatto da un italiano che è di Pierro, per cui è un principio interessante, certo si dice ci vogliono altri studi, facciamogli altri studi, cioè è chiaro che non c'è interesse commerciale a farli, per cui se aspettiamo lo sponsor commerciale che investe contro i suoi interessi non lo avremo mai, dobbiamo avere la sanità pubblica che si impegni e si affretta a fare degli studi, poi vi farò un esempio, che dimostrino oppure smentiscano, se si ritiene che questi siano studi troppo piccoli non fatti in un paese occidentale, se ne facciano altri più grandi in un paese occidentale insomma. La quercetina se uno intanto che aspetta i risultati vuole intanto mangiarsela, introdurla in cibi, ecco questi sono dei cibi che sono ricchi, la netto, i capperi tantissimi, una cipolla rossa, però qua usavano quercetina fitosoma che aumenta molto l'assordimento. E questa è la melatonina, 11 studi sulla melatonina, cioè la melatonina questi sono 5 trai randomizzati controllati, la melatonina è di estremo interesse, si sono moltiplicati gli studi ed ha dei risultati 73% di miglioramento nel trattamento precoce, però anche nel tardivo migliora più o meno nella stessa dimensione, è un trattamento adiuvante, non è che uno alla coglie prende solo la melatonina, però non se la dovrebbe far mancare alle dosi non eroiche usate in questi trai, in uno usavano 6 mg, magari capita che una notte che uno è in sonno e ne prende 3, in questi casi ne prendevano 6 due volte al giorno, però sono cose interessanti da sapere, poi il medico e l'interessato scelgono e non sono io a dire fatelo, questi sono i risultati sulla mortalità, buttali via un 79% di miglioramento in quattro studi sulla mortalità. questo è di nuovo un esempio, poi ve lo guardate, di che cosa ha fatto in uno studio in particolare e questo per finire, quasi l'ultimo, l'Iota Carragenano, c'è un solo studio, però è interessante perché è un grande trial pragmatico in Argentina, pragmatico sarebbe il meglio, nel senso che per capire l'efficacia pratica si fa un trial pragmatico, niente criteri di esclusione, si fanno entrare tutti, qui erano abbastanza tanti, erano lavoratori della sanità e hanno visto che effettivamente aveva un 80% di miglioramento nei confronti di chi non lo prendeva, è un gel che si spruzza nel naso, se uno è in una situazione ad alto rischio, una spruzzatina 2-3 volte al giorno migliora notevolmente la situazione in un estratto di un'alga. in Italia c'è pure e si chiama, non vi dico il nome commerciale, ma se chiedete in farmacia c'è al momento solo col nome commerciale, però non costa tanto. Per finire, ho detto che facciamo un'eccezione per l'istitaglipin per un motivo, perché qui c'è Solerte, c'è Massimo Galli che hanno fatto questo trial, questo studio molto interessante che è osservazionale sui ricoverati, allora il ricoverato ci si può attendere che abbia meno beneficio da una sostanza che ha questo meccanismo d'azione, che è una proteasi che disattiva la serratura dove la spike si inserisce, quindi è molto interessante, impedisce di mettere dentro la chiave della spike nel recettore delle cellule. E' interessante che c'è stato anche in questo studio tardivo, praticamente un dimezzamento, come vedete, della mortalità e anche di altri esiti. Anche le dimissioni ospedaliere sono state più precoci, questo è un medico di famiglia partenopeo che penso stia assistendo, onore alla sua intuizione, oltre a quella del professor Solerte, di aver detto guardate che ha un meccanismo d'azione di estremo interesse, andrebbe studiato, lì si è fatto ricevere da De Luca chiedendo di fare uno studio, poi è inscritto all'AIFA, l'AIFA ha risposto, gli facevo l'esempio, dice sì è interessante ma ci vorrebbero 200.000 euro, hai capito? 200.000 euro se uno con 300 pazienti a cui riserva il molnupravir della Merck che adesso arriverà, è interessante per l'amor di Dio, è un anticorpo monoclonale, uno lo prende per bocca, quindi è molto più maneggevole di tutti gli altri che si devono inoculare, però è un ordine di grandezza ben diverso come costi rispetto al citagliptin che sono 20 euro per 10, i 10 giorni costano 20 euro, cioè è preso per diabetici, i soggetti che lo usano è assolutamente sicuro anche come antidiabetico, preso tutti i santi giorni, ma per questo scopo e per il tipo di meccanismo d'azione vale per 10 giorni, chi l'ha usato d'intesa con i diabetologi che lo prescrivono perché oggi è a prescrizione, dice caspita risultati molto buoni, varrebbe la pena di verificarli con uno studio di qualità idonea e nell'interesse della sanità pubblica io credo che vada spezzato una lancia perché 10 giorni di citagliptin costano 21 euro, un monoclonale costa ben diverso, il monoclonale va iniettato salvo il monopravir che arriverà, spero, l'iniettore va formato, se va a casa il medico di famiglia deve essere pagato, deve avere l'adrenalina pronta, il monoclonale non immunizza, mentre il citagliptin disattiva la serratura ma la spy continua a esserci e quindi la spy del virus, per cui gli anticorpi si formano, quindi è interessante anche da questo punto di vista il potenziale, andrebbe verificato, quindi è giusto chiedere di far partire un trial randomizzato e intanto far partire la discussione scientifica e se i diabetologi sono d'accordo a fare una prescrizione off-label visto che spetta a loro la prescrizione di intesa con un medico di famiglia che ci creda, si potrebbe già cominciare a fare qualcosa di studio controllato. Vi ringrazio.